Sto dando tutte e due le canne, vediamo, una è montata con il verme di rimini doppiato grosso, amo del 2 barra zero e gli sta dando, e adesso sta dando anche a questa che invece c'è su un ammino dell'1, quindi vediamo. Alla prossima 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 Bel pesce Che pagro Pagro eccezionale Pagro Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima